comunque ragazzi i ragazzi non ci credono ma è successo ancora al primo giro si sono beccati questo 32 assassino al primo giro il Joe gliel'ha picchettato in culo anche stavolta guardate la depressione che fuorisce dai pori del cervello io a cane ragazzi siete fottuti ragazzi ve l'ho picchettato in culo voglio essere maglianimo voglio essere maglianimo vi farò uno sconto grandissimo sconto ragazzi ti sia ritorto contro il tuo culo io io sono fiero di averlo picchettato in culo non ce ne sono di problema comunque baffanculo baffanculo il mio sconto è che berrete 5 secondi a testa per due volte per due volte mi sembra onesto quindi siamo pronti a partire grazie alla magnanimità del baffanculo i ragazzi dopo tipo qualche minuto si apprestano hanno una nuova prova 3 2 1 via 1 2 3 4 5 e 1 qui l'antica drogheria del corso si deve si deve finire per un secondo 1 2 3 4 5 andiamo ragazzi andiamo grande passaggio del testimone mi dico 1 2 3 4 5 porca merda il singhiozzo no e siamo sul finale sul finale con il singhiozzo 1 2 3 4 5 grandissimi ragazzi mi dici mi dici anche questa volta gli abbiamo messo del culo ragazzi mi dici mi dici